Quello che è importante ricordare di questa malattia che noi chiamiamo Covid-19 causata dal virus SARS-CoV-2 è che ha delle somiglianze parziali ma significative nei confronti dell'HIV. Le malattie sono profondamente diverse. Una è una malattia acuta, il Covid-19 è spesso mortale. L'HIV è una malattia cronica, trasmissione sessuale, la mortalità è molto elevata ma richiede molto tempo prima di svilupparsi e comunque la patogenesi è molto diversa. Dov'è però l'elemento comune che ci permette di dire che questa iniziativa ha un valore forte? La multidisciplinarietà. Perché la forza dell'HIV, per meglio dire dell'intervento che gli uomini hanno messo in atto sull'HIV è stata proprio quella capacità di lavorare in modo multidisciplinare, tale per cui dal 1983, data di scoperta del virus, 13 anni dopo avevamo una terapia efficacissima, oggi la malattia è diventata una malattia cronica. Il Covid-19 è un virus che tende a restare fra noi, ha le caratteristiche per restare fra noi. Quindi ecco, come dicevo, la cosa importante è quella di lavorare in maniera multidisciplinare. Epidemiologi, virologi, clinici, le università, la formazione, l'ambiente sociale. Questo è un virus, come dicevo prima, destinato a restare, se non interveniamo in modo adeguato, in attesa di un vaccino efficace. Ecco che quindi l'intervento multidisciplinare è una delle poche garanzie che abbiamo di successo contro questo virus, che effettivamente sta diventando un grande problema a livello mondiale.